Salve raga Ritrovati con questa nuova puntata di Farming Simulator 14 Android Abbiamo appena finito di Likomari Campi Allora adesso torniamo in farm Con il 50% di Likwame Ragazzi ragazzi siamo tornati qui Siamo arrivati in farm Devo trovare un posto da parcheggiare Mr.Botte Che mi parlo con il tutto spruzzo Mr.Botte la lasciamo lì Mr.Lamborghini lasciamo qui E adesso ragazzi ragazzi vi voglio una cosa Smerdere i miei campi con concime solido Un solido manure Eccoci qua ragazzi Stiamo per smertare i campi con concime solido Il titolo di tutti quanti arriverà la nostra Anzi Questo qua è finito per andare a fare delle rotballe Che ragazzi mi hai Ho già fatto un carrettino Ho già fatto un carrettino Di roba Quindi il qua Noi andremo a Adesso con questo qua andremo a prendere la nostra disseminatrice La metteremo dietro Al spantile Qua intanto stiamo inseminando il campo Ragazzi come potete ben sapere Stiamo inseminando il campo E Lasciamo in automatico Intanto quell'altro si Arrange a smertare i campi